Oggi parliamo di fotografia e non di fotografie qualunque, bensì di due fotografie nello specifico. La prima è questa, che conoscete senz'altro, avrete già visto, è molto famosa. L'autore si chiama Nick Outh e grazie a questa fotografia ha vinto il premio Pulitzer, uno dei più prestigiosi premi nell'ambito giornalistico e di fotoreportage. L'altra fotografia è questa, il cui autore di contro è sconosciuto. Ce ne parla Riccardo Falcinelli nel libro Figure, proprio per capire dove risiede la differenza fra una foto che ha un enorme successo, come questa di Nick Outh, e una foto invece che passa nel dimenticatoio, come questa di cui non si sa neanche l'autore, si sa solo che lavorava per la United Press. Nick Outh era un fotografo invece della Associated Press. Quindi anche questo fotografo qua, diciamo, lavorava per un'agenzia molto importante, quindi non è neanche una questione, diciamo, di distribuzione dell'immagine ai giornali. Le due agenzie avevano accesso immediato a tutte le testate giornalistiche del mondo per proporre le loro fotografie. Non è neanche una questione di contenuti, perché tutti e due i fotografi si sono trovati sotto un bombardamento, su una strada, nell'istante, quasi nel medesimo istante, vedete il cartello che c'è qua dietro, c'è anche qua, vedete? Per cui diciamo che le due fotografie sono state scattate a forse una manciata di secondi di distanza da una all'altra. Qual è la differenza allora fra queste due immagini? Come mai questa ha cambiato la vita del proprio autore facendogli vincere un premio molto prestigioso e portandolo di conseguenza a lavorare poi su molti altri progetti e questa invece è stata del tutto indifferente per il suo autore. D'altronde erano tutte e due nello stesso posto sotto le medesime bombe a fotografare gli stessi soggetti. Qual è la differenza fra queste due immagini? Ce ne sono diverse, alcune diciamo che derivano dal secondo in cui è stata scattata l'immagine e lì è una differenza diciamo tempistica dovuta anche un po' al caso forse e poi a un diciamo a un meccanismo, a un'abitudine che hanno i fotografi da quando esistono le macchine, da quando la Leica ha introdotto le macchine quelle decisamente portate le 35 mm che permettono di essere portate in giro facilmente. Allora per quanto riguarda il momento qua diciamo che il soggetto che è questa bimba Kim che scappa dalle bombe dalla sua casa distrutta in fiamme completamente nuda e corre verso il fotografo con le braccia aperte è un'espressione quasi disperata e la stessa bambina che c'è qua che però ha un'espressione differente, sembra come ricorda Falcinelli nelle sue giuste parole sembra quasi potercela fare qui. Quindi qua è chiaro che l'immagine suscita un'empatia maggiore nell'osservatore chi qua nel nostro mondo occidentale all'epoca vide questa foto si sentì particolarmente coinvolto probabilmente anche perché la bambina sta correndo verso l'osservatore con le braccia spalancate cercando aiuto insomma. Questo tra l'altro è il fratello di Kim e il suo fratello. Si vede il ritratto anche qua. Guardate poi d'altronde, d'altro canto qua è lui che ha le braccia spalancate del disperato. Quindi diciamo che dal punto di vista contenutico le due fotografie si equivalgono abbastanza. La più grossa differenza però è che si trova sulla linea dell'orizzonte. Qua la linea dell'orizzonte passa attraverso gli sguardi di quasi tutti i protagonisti. Qua invece la linea dell'orizzonte è superiore. Vedete qua l'orizzonte è superiore a gran parte dei protagonisti, dei soggetti dell'immagine in cui invece passa esattamente sullo sguardo. Qua cosa vuol dire? O che il fotografo era molto basso, alto come un bambino oppure che come ha giustamente indagato Falcinelli e ha trovato la risposta come fanno i fotografi che riescono in un istante a decidere come mettersi per scattare una fotografia probabilmente si è chinato sulle ginocchia proprio per riuscire a cogliere lo sguardo e a immergere chi avrebbe poi osservato la fotografia a immergerlo nell'ambiente, a fargli vivere quel momento di disperazione che è riuscito tanto bene a rappresentare. L'altro fotografo non l'ha fatto, probabilmente ha scattato da in piedi, probabilmente era di corsa, probabilmente non si sa cosa però la sostanza, una delle differenze principali fra le due immagini è proprio questa che Nick Hood si è chinato ed ha scattato la fotografia, si è piegato sulle ginocchia. Allora, e qui vi leggo il passaggio di Falcinelli perché non saprei esprimere con parole migliori di quelle che ha usato lui che è un maestro, riesce ad analizzare Falcinelli veramente, ha una capacità analitica fuori dal comune, infatti viene pubblicato da Einaudi e i suoi libri hanno un grandissimo successo. Allora, questa foto insomma è stata possibile solo per mezzo di una macchinetta 35 mm in un preciso momento della storia e della tecnica e solo attraverso una pratica quotidiana che fa sì che un reporter sia abituato a muoversi e a piegarsi mentre riprende qualcosa anche in circostanze estreme. Quindi il successo di questa immagine è il frutto di tanti elementi fra cui la tecnologia che ti permette di scattare un certo tipo di fotografie, l'abitudine che ha chi utilizza questa tecnologia ad utilizzarla come si deve e poi ovviamente il momento storico perché si è ben dovuto trovare nella situazione di poter scattare una fotografia. Se avessero architettato il tutto con degli attori invece che con dei bambini veri che scappavano dalle bombe, ovviamente il valore della fotografia sarebbe stato decisamente inferiore. Ed è sui primi due punti, cioè sulla tecnologia a nostra disposizione, sulla nostra abitudine ad utilizzarla, che vorrei fare una piccola riflessione finale, perché sento molto spesso anche grandi fotografi, che stimo moltissimo, che disprezzano però i social. Dicono, ma sui social c'è solo fotografia brutta, fotografia senza valore, Instagram svilisce la nostra arte suprema della fotografia e quant'altro. Io sono sicuro, sono sicuro, che c'è modo di ripensare a questo punto di vista, perché è pur vero che adesso tutti, chiunque, può scattare delle fotografie. Il che però significa anche, d'altronde, che anche chi non avrebbe avuto la possibilità di dimostrare la propria abilità come fotografo, che, ricordiamoci, significa semplicemente rappresentare per immagini un momento, un attimo, un volto, una persona, una circostanza, eccetera, eccetera. Molte persone che probabilmente 30 anni fa non avrebbero avuto magari i soldi, il tempo per comprarsi una macchina fotografica a pellicola, poi sviluppare le fotografie, imparare ad utilizzarla, eccetera. Adesso diciamo che è tutto più accessibile e secondo me non è una questione di... è sicuramente una questione di occhio. Cioè, vedete, anche qua, le due fotografie, cioè i due fotografie avevano a disposizione la stessa attrezzatura, o comunque attrezzature del tutto equivalenti, equipollenti l'una all'altra. Lui però, Nick, ha avuto un'accortezza in più, ha catturato la giusta prospettiva nell'istante preciso. E questo, non c'è attrezzatura che tenga, anche chiunque abbia uno smartphone va in giro, se sa cogliere il momento esatto dalla giusta prospettiva, quel giusto angolo, riesce a fare una fotografia impeccabile, impeccabile, ricca di significato. Ricca di significato. Per cui, anche per questo, molto spesso, in un altro video, tra l'altro, di un po' di tempo fa, in cui c'era qualcuno che mi aveva chiesto ma tu che macchina fotografica usi, come mai, eccetera. Io ho raccontato che macchina utilizzavo per lavoro, io faccio soprattutto foto di prodotti in studio, e ho bisogno di una macchina che permetta alcuni tipi di setup, però, a parte questo, la mia risposta è stata la miglior macchina fotografica e quella che hai a disposizione quando devi scattare la fotografia che vuoi scattare. Quindi, il 90% delle volte, ad oggi, è il telefono cellulare, perché non è tanto la macchina foto che fa la fotografia, ma sei tu, con il tuo occhio, che fai la fotografia. Piccole riflessioni, abbraccio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.